Azienda e sindacati della Metalba avrebbero dovuto incontrarsi in regione a Venezia convocati dall'assessore al lavoro Elena Donazzan. Un incontro precipitosamente annullato per la contemporanea riunione del Consiglio d'amministrazione a Milano e da Milano arriverebbero novità importanti. Ci sono delle notizie, anche se non ancora ufficiali, che parlano di dimissioni di tutto il CDA e quindi siamo da un lato contenti che questi abbiano deciso di andarsene e dall'altro molto preoccupati perché non sappiamo cosa succederà adesso. Quanto si aggrava adesso la situazione dei 160 dipendenti che lavorano a Bassano e alla Metalba? Insomma, se non arrivano i soldi o dalle banche o da un nuovo socio o da una nuova proprietà questi rischiano seriamente il posto di lavoro. Questa azienda rischia di chiudere. La Metalba patisce problemi finanziari che ne hanno compromesso il rapporto con le banche al punto da metterne in forza l'attività nonostante non manchino le commesse. Le difficoltà sembravano destinate a risolversi con la nomina di un nuovo Consiglio d'amministrazione. A tutt'oggi invece i problemi di credito non si sono sbloccati. La strada migliore a seguire sarebbe quello di avere un nuovo proprietario, una nuova società che subentri a quella attuale e che possa effettuare le attività che oggi sta facendo Metalba con una nuova governance, un nuovo proprietario, una nuova gestione, nuovi amministratori, insomma tutto nuovo. Diversamente credo che le banche non apriranno i cordoni delle borse. Alla Metalba era stato indetto uno sciopero che poi era stato revocato per onorare determinate commesse. Comunque oggi anche se si volesse lavorare non si potrebbe perché non ci sono più le materie prime. La materia prima è praticamente finita, in questi due giorni di lavoro l'hanno esaurita. Adesso domani abbiamo un'assemblea alle 11, i lavoratori decideranno il da farsi. Grazie.